Musica Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco. Dopo quasi tre settimane di lavori sta per concludersi il sinodo per l'Amazzonia. E al sinodo per l'Amazzonia è dedicata la puntata di oggi che faremo in compagnia di un padre sinodale, padre Juan Bottasso, missionario salesiano da 60 anni, quasi 59, in Amazzonia, in Ecuador. Una volta veramente ti chiamavi Giovanni, Juan per dopo tanti anni sei diventato appunto indigeno in qualche modo anche tu. E legati all'Amazzonia per lavoro, per vocazione e per passione sono anche gli altri due ospiti. Ve li presento subito. Gisella Evangelisti, antropologa e scrittrice. E Mattia Galletti che è responsabile dell'area Popoli Indigeni dell'IFA, del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Insomma dicevamo quasi tre settimane di lavori. Cerchiamo di fare un po' il punto di quello che si è discusso nell'aula del sinodo. Lo facciamo con un servizio di Paolo Fucili. Evangelizzazione dell'Amazzonia, inculturazione del Vangelo, impegno per la cura del creato, liturgia e rito amazzonico, sacerdozio e diri probati, nuovi ministeri e ruolo della donna nella Chiesa. Tanto ampio è stato il confronto in aula e nei gruppi ristretti divisi per lingue che non sarà facile far sintesi di quasi tre ormai settimane di lavoro. Tra meno di 48 ore il sinodo sull'Amazzonia si concluderà con la solenne messa in San Pietro domenica, così come era iniziato il 6 ottobre. Ma prima bisogna votare punto per punto domani pomeriggio per poi consegnarlo a Papa Francesco il documento finale, prassi consolidata delle assemblee sinodali, condensare nero su bianco contenuti delle varie fasi del dibattito, orientamenti e proposte emersi da affidare alla valutazione del presidente di ogni sinodo, il romano pontefice. Penultima congregazione generale, oggi pomeriggio per presentare ai padri sinodali il testo da votare domani, in attesa che sia pubblicato per sondare omori e temi caldi dell'assemblea, ci sono i briefing quotidiani con la stampa, ospiti relatori non solo amazzonici, in evidenza la questione donna. Per Gracias di Mumbai ci sono ancora opportunità inutilizzate, consentite dal diritto canonico per valorizzarla, ma la chiesa sinodale non solo cammina insieme, come dice la parola stessa sinodo, decide anche insieme se non vuole zoppicare per Sentejas Guzman della Bolivia, per il cardinale Stella, prefetto della congregazione vaticana per il clero, il celibato sacerdotale è una sfida, ma è la bellezza della vita del sacerdote, poi la nutrita agenda delle questioni ambientali, Monsignor Cenni del Suriname, piccolo paese, quasi tutto foresta, in colpa del disboscamento e il troppo consumo di carne dei paesi ricchi, sotto accusa da parte di un'attivista brasiliana, anche le devastazioni ambientali di centrali idroelettriche lungo i fiumi. E il problema non è solo l'Amazzonia, diceva il cardinale a un bongo besungu del Congo, parlando dell'immensa e preziosa foresta equatoriale africana, non c'è più tempo da perdere, è l'appello, e che nessuno dica, io non centro niente. L'abbiamo detto, agenzia di ripresentazione, tu sei ormai un prete amazzonico, un religioso amazzonico, quindi dal tuo punto di vista, cioè in qualche modo dal punto di vista anche dei popoli con cui condividi la vita da 59 anni, sei contento di questo sinodo? Per che cosa sei contento? Per che cosa invece la gente dell'Amazzonia può essere un po' meno contenta o addirittura scontenta? Senza dubbio è stata un'esperienza incredibile questa di essere presente in un'assemblea dove si sono sentite quasi 300 voci che hanno dato un panorama, mi pare completo, di quel che succede sul problema ecologico, la situazione degli indigeni, le sfide per la Chiesa. A me pare che, questo mi lascia contento, però mi pare che il lavoro principale comincia nel post-sinodo. Adesso, cosa facciamo? Prima di tutto, nel sinodo si sono sentite moltissime voci che denunciano quali sono i distruttori, quelli che bruciano, quelli che stanno distruggendo l'Amazzonia. L'analisi è molto completa, però io vorrei aggiungere una parola. I colombrici siamo tutti, le grandi bulli nazionali, gli stati non sono altro che i nostri emissari, perché la nostra cultura, la nostra civiltà occidentale è una civiltà che espande tremendamente i consumi. Da noi la popolazione cresce poco, i consumi si raddoppiano in una generazione, siamo noi che causiamo la distruzione dell'Amazzonia. Perché distruggono la foresta? Per mettere la soia. Per allevare il bestiame, lo esportano in tutto il mondo. Il bestiame perché cosa? Per la carne. Poi la gente si ammala perché mangia troppa carne. Vogliamo il legno, vogliamo i combustibili, vogliamo i minerali, vogliamo noi. Non solo le multinazionali lo fanno per noi, anche se coltivano i loro interessi. Se non cominciamo la gente, che il problema è questo, che siamo tutti avvolti in un ambiente che porta a distruggere quello che rimane ancora di intatto nel mondo, i poli, l'Alaska, l'Agroenlandia, il Congo, eccetera. Alla fine ci suicidiamo, distruggiamo la barca in cui navighiamo. Senti, che cosa ti aspetti dalla comunità ecclesiale, quella di qua, per esempio, quella tua d'origine, dalla Chiesa che è in Italia? Che cosa ti aspetti che possa, che cosa deve fare secondo te per continuare questo cammino che dici che in qualche modo comincia alla fine del sinodo, insieme a questi comportamenti virtuosi, ma anche dal punto di vista pastorale, visto che il tema è anche quello dell'evangelizzazione? Ma prima di tutto bisogna lavorare per attuare quello che dice il Papa stesso, bisogna ridurre le nostre esigenze e i nostri consumi. Dal punto di vista pastorale, si parla molto del volto amazzonico della Chiesa. Che vuol dire? Eh, mi ha stare attenti, io ho paura che a volte questo volto amazzonico si riduca una folclorizzazione di certe azioni liturgiche, sarebbe la rovina. L'Amazzonia è su un'immensa regione con pochissimo clero, non può essere solamente risolta la pastorale dell'Amazzonia con il clero. Bisogna coinvolgere i laici assolutamente, numerosissimi, altrimenti sarà una zona dove il cristianesimo, se è penetrato, si perderà. E questo è un problema anche qua. Più andiamo avanti, meno clero ci sarà. Come lo risolverà il sinodo? Questo tema che tocca anche il tema delle donne e dell'ordinazione dei viri probati, gli uomini sposati, anziani e riconosciuti come saggi. Il tema è stato toccato con moltissima libertà, non ci sono state intromissioni. Io avevo paura che monopolizzasse l'attenzione. C'è stato molto tempo di dire questo, ma non tutto. Per me, quello dei preti sposati, eccetera, è un problema che, si è detto là con molta chiarezza, dovrà essere affrontato da un sinodo dove ci sia tutta la Chiesa, e non solo quella amazonica. Il problema non è solo quello. Il problema è di creare in tutte le comunità gente che creda al Vangelo, che sacrifichi ore e tempo per il Vangelo, che lo faccia diffondere, che dia anima a queste povere comunità disperse lungo i fiumi, che sono sole, che sono abbandonate, che vivono nella foresta. E quello vuole creatività. Non riduciamo tutto a mettere qualche piuma a quello che celebra e a un po' di colore. Quello è superficiale. Dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, perché altrimenti... Il cuore amazzonico della Chiesa, non il volto, non la parte esteriore. Declericalizziamo la pastorale. E declericalizziamo. Questo credo che non valga solo per l'Amazzonia. Ma diamo ancora voce e ascolto all'Amazzonia, in particolare a un vescovo, Celmo Lazzari, vicario apostolico della regione amazzonica dell'Equador, perché ha raccontato al microfono di Massimiliano Cochi un aspetto importante da conoscere sulla realtà del popolo, dei molti popoli amazzonici. Mi preoccupa moltissimo che proprio tra le comunità indigene si verificano molti suicidi, molti suicidi, troppo. E questo significa per me che non trovano più senso nella loro vita, non vedono uscite e allora cadono in questo. Gli adulti vedono che i figli e la generazione nuova già non parlano la loro lingua, già non vogliono ascoltare. L'inchiccio dice la camacina che era molto forte questo consigliare i figli. E questo già non avviene. Perché prima i ragazzi sono alle scuole e tante volte alla sera vanno a dormire anche loro a mezzanotte, alla una, perché sono lì come i loro cellulari e tutti quanti. Allora, tra gli adulti c'è questa delusione. Non vedono che i ragazzi li seguono. E tra i ragazzi, pur studiando, avendo qualche possibilità, però quando si mettono nella città vedono che sono forse cittadini di seconda categoria, anche disprezzati. Mi colpisce perché questa è un'intervista che ci racconta un aspetto molto meno conosciuto di questi popoli. Io credo che il nostro sguardo nei confronti di questi popoli, uno sguardo superficiale, spesso presuntuoso, oscilli tra guardarli come delle persone che appartengono a culture inferiori rispetto alla nostra o al massimo rischiamo di guardarli con un po' di compassione, un po' di pietismo, non di pietà. Tu hai vissuto a lunghi tratti la tua vita in Amazzonia. Quali sono gli stereotipi che dobbiamo buttare via? Come dobbiamo guardare questi popoli? Anche un po' alla luce di quello che ci diceva il Vescovo. Beh, i popoli amazzonici sono stati colonizzati, utilizzati, sfruttati, massacrati, eccetera, ma anche, soprattutto, dal punto di vista culturale. Cioè, le poche scuole che ci sono state negli anni passati, perché adesso la situazione, per fortuna, sta cambiando, erano in lingua spagnola, no? O portoghese, dall'altra parte. Quindi, praticamente, li si faceva intendere che la loro cultura, la loro vita non valeva niente. Quando, invece, hanno una cultura profondissima, non solo dal punto di vista spirituale, per esempio, ma anche dal punto di vista delle conoscenze delle piante medicinali, le piante in generale. L'uso delle piante è enorme, no? Quindi, praticamente, è stata distrutta, è stato detto che non valgono niente, quando, in realtà, invece, hanno profondissime conoscenze che adesso ci possono aiutare a andare verso il futuro. Tu li hai raccontati anche in un libro, attraverso la storia di un'antropologa realmente esistita. Il libro si chiama Dalla curva del fiume all'improvviso. Perché dici che ci possono aiutare? Che cosa hai visto attraverso gli occhi di quest'antropologa? Perché dici che ci possono aiutare per il futuro? Loro a noi e non noi a loro, come invece saremmo tentati di dire. Esattamente, cioè, prima di tutto, perché, come diceva il padre Juan Botasso, il nostro modo di vivere non è assolutamente un modo naturale. Cioè, noi ci siamo creduti che l'essere umano, l'uomo, debba dominare la natura. E quindi, dominandola, praticamente, riesce a distruggerla e proprio a, veramente, andare anche contro noi stessi. L'uomo amazzonico, l'uomo e la donna amazzonico vivono dentro la natura. E questa è una sensazione che tu puoi sentire assolutamente certa quando sei sotto un cielo stellato in amazzone, quando sei in mezzo ai fiumi. Senti che sei una parte del creato. Non sei il padrone, ma sei dentro. Non sei il padrone. Questa cosa è molto evidente e lo possiamo vedere grazie a una cartina che ci ha portato Mattia, che chiederei alla regia di mandare in onda e farcela spiegare da Mattia. Eccola qua, raccontacela tu. Che cos'è questa cartina? Dunque, questa è una cartina che spiega la situazione dell'Amazzonia e la drammaticità della situazione dell'Amazzonia. C'è stata data dal coordinatore generale della COICA, che è la federazione delle organizzazioni indigene di tutta la regione ammazzonica. Evidenzia molto chiaramente le zone verdi sono quelle dove i popoli indigeni vivono. Le zone invece arancione o marrone sono quelle dove ci sono le concessioni governative per lo sfruttamento della foresta. Sono investimenti che riguardano il settore minerario, quello del legname, quello dell'agoindustria, con monoculture e allevamenti intensivi, molto significativi. E abbiamo dati, diciamo, di ricerca che testimoniano una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma comunque una volta che è confermata dalla ricerca va utilizzata, ossia che i territori dove i popoli indigeni vivono hanno meno del 10% della deforestazione del resto dell'Amazzonia. Cioè, praticamente, questa che vediamo è tutta l'Amazzonia, quindi in origine, comunque, grosso modo, è prevalentemente tutta intera foresta, però quelle che vediamo arancioni, dove ci sono le concessioni governative, questa foresta è inquinata, abbattuta, tagliata, messa a rischio. Le zone verdi sono quelle dove vivono i popoli originari e sono gli unici posti dove la foresta è in salute. Sì, il motivo è molto semplice, perché, come diceva prima Gisella, i popoli indigeni vivono in totale armonia e simbiosi con la natura, dipendono dalla natura, sono i primi interessati a conservare la biodiversità. Nel mondo abbiamo il 5% della popolazione mondiale che appartiene a popoli indigeni. Loro sono responsabili e sono custodi dell'80% della biodiversità mondiale. Non può esistere una casa comune, riferendoci alla laudato sì, senza l'operato dei popoli indigeni. Per questo tutti noi dovremmo essere consapevoli, ma oltre anche riconoscenti del loro ruolo. Quindi c'è da imparare. Non è una cultura primitiva, è una cultura contemporanea. Se parliamo di imparare, se ci ricolleghiamo all'aspetto culturale, ci sono in effetti due battaglie culturali da fare per ribaltare degli stereotipi. Uno è che le popolazioni indigene sono le prime a dover essere considerate come culture moderne. Per il semplice fatto che sono le uniche culture che si preoccupano di lasciare i territori dove vivono, la biodiversità, il creato, in mano alle generazioni future. Quello che ci viene dato non è una eredità da parte dei nostri padri, ma qualcosa che viene dato in prestito dai nostri figli. La seconda battaglia culturale è il fatto che le culture indigene non sono culture arretrate. La profondità dei saperi, delle conoscenze dei popoli indigeni è infinita. Perché provate voi a vivere in ecosistemi fragili, provate voi a vivere nelle foreste. Se non avete una profonda conoscenza della fauna, della flora, delle interdipendenze che ci sono tra di loro e l'essere umano, probabilmente non vivrete più di 24 ore. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con un gradito ritorno, quello dell'Omelia di Santa Marta. Vi aspetto. Grazie. Bravo. Bravo. Così si fa. Chi ti ha aiutato a fare queste cose, sia la bruta o sia la buona? Di nuovo in diretta, puntata dedicata al Sinodo per la Mazzonia, giunto ormai alle battute finali, ma questa mattina Papa Francesco ha trovato il tempo anche di fare l'Omelia del mattino nella Messa di Santa Marta e ha parlato di lotta interiore. Ascoltiamo le sue parole. È una lotta fra il bene e il male, ma non un bene astratto o un male astratto. Fa il bene che ci ispira lo Spirito Santo di fare e il male che ci ispira il cattivo spirito a fare. È una lotta. È una lotta di tutti noi. Se qualcuno di noi dicesse ma io non sento questo, io sono beato, vivo tranquillo, in pace, non sento, io direi tu non sei beato, tu sei un anestetisatto che non capisce cosa succede. E tante volte i cristiani siamo indaffarati in tante cose, anche buone, ma cosa succede dentro di te? Chi ti ispira a questo? Qual è la tua tendenza spirituale di questo? Chi ti porta a fare questo? La vita nostra abitualmente è come una vita di strada. Andiamo per la strada della vita. Quando andiamo in strada soltanto guardiamo le cose che ci interessano. Le altre non le guardiamo. È importante conoscere cosa succede dentro di noi. È importante vivere un po' dentro e non lasciare che la nostra anima sia una strada dove passano tutti. Come si fa a fare questo? Ma prima di finire la giornata prendete due o tre minuti. Ma cosa è successo oggi di importante dentro di me? Oh sì, ho avuto un po' di odio lì e ho sfarlato lì. Ho fatto quello per la di carità. Chi ti ha aiutato a fare queste cose sia la bruta o sia la buona? E farci queste domande per conoscere cosa succede dentro di noi. Dalle volte con quell'anima chiacchierona che tutti ne abbiamo sappiamo cosa succede nel quartiere cosa succede nella casa dei vicini ma non sappiamo cosa succede dentro di noi. Che è successo dentro di te durante queste tre settimane di sinodo? C'è stata una lotta interiore non so se tra bene o male o che cosa. Ma la lotta interiore non l'ho vissuta durante il sinodo l'ho vissuta nei 60 anni che ho vissuto partendo per le missioni è stato un cambiamento direi totale profondo perché sono partito con l'ideale dei missionari di allora andare a civilizzare a portare la luce alla civiltà a dei poveri selvaggi e poi uno un po' alla volta comincia a chiedersi ma sarà vero? Avranno solo da imparare? Non avrò qualcosa io da imparare anche loro e quello costa moltissimo E chi ha imparato? Ma c'è un sacco di cose l'abbiamo già sentito prima hanno una conoscenza della natura incredibile in confronto a noi ma poi sono capaci di vivere insieme vivere con poco eccetera E voi che avete imparato? Qual è stato il cammino interiore? Che è successo dentro di voi in Amazzonia? In Amazzonia per me è stato entrare nel cuore della terra il cuore e quindi parte della natura ma poi la bellezza di pensare per esempio le malattie sono originate dalla mancanza di armonia con le altre persone o con la natura la persona viene curata integralmente l'essenzialità nell'economia l'aiuto reciproco la solidarietà ci sono tantissime cose da cui imparare Mattia ma io posso fare riferimento al fatto che ho potuto lavorare con i popoli indigeni in diverse zone non solo in Amazzonia e tutte le volte ho avuto in pratica il sentimento di essere interrogato la spiritualità dei popoli indigeni è una cosa comune a tutti i popoli indigeni che vivono nelle zone più distanti del pianeta spesso si riuniscono in luoghi che loro considerano sacri al centro dei quali spesso ci sono delle piante che esprimono una solennità della vita e tutto questo ci fa riflettere perché sono considerazioni che nella vita quotidiana noi di solito non abbiamo una vita che ha una relazionalità molto limitata società atomizzate dove spesso è difficile per noi parlare con il proprio vicino di casa e tutto questo è un'altra parte delle lezioni che dovremmo con umiltà prendere dai popoli indigeni grazie davvero per tutto quello che ci avete raccontato è il momento del rosario in diretta da Lourdes noi ci rivediamo lunedì alle 17.30 quando il sinodo sarà concluso sentiremo quello che dirà Papa Francesco ma parleremo anche del documento finale delle conclusioni del sinodo buona domenica mi chiedo di accompagnare con la preghiera questo evento ecclesiale affinché sia vissuto nella comunione fraterna e nella docilità allo Spirito Santo che sempre mostra le vie per la testimonianza del Vangelo e nella docilità e nella docilità che si rivediamo che si rivediamo la preghiera